nel 1969 avevo 19 anni e avevamo da poco nel dicembre abbiamo da poco aperto una sede anarchica venezia una sede a san piero di castello un posto molto fatiscente a dire il vero il martedì o mercoledì che quindi siamo il 16 17 così mi ricordo quella sera perché era una serata particolarmente nebbiosa e quelle nebbie che non ci sono più io sono andato a venezia per vedere i compagni avevamo saputo di questa cosa che era successo a pinelli e quindi cercavamo di cercavo di capire qualcosa tra l'altro era molto giovane insomma e ho trovato un compagno alberto proprio lì a piazza di roma che mi aspettava e mi dice guarda è meglio che non ci vediamo per un pezzo perché non si sa qui come va a finire compagni del pc ci dicono che forse c'è in atto un colpo di stato qualcosa c'era sempre questa questa paura del colpo di stato fascista così è andata subito dopo nei mesi successivi anche attraverso appunto le attività del del mac non si chiamava nesto mac nel gruppo si comincia una campagna che per diversi anni sarà legata a valbreda e a pinelli una campagna soprattutto rivolta agli studenti ma intensa noi avevamo spostato poi nel 71 la sede a marghera e avevamo messo su una tipo una serigrafia molto artigianale proprio per abbiamo stampato il primo manifesto e secondo anche il terzo erano proprio sulla strada di stato naturalmente tutte le attività e la cosiddetta campagna valpreda che inizia subito dopo il 15 dicembre è stata una campagna di controinformazione che riguardava tutto la federazione i gaff gruppi anarchici federati ero stato incaricato con luciano lanza di partecipare al comitato nazionale pro vittime politiche che cnpvp che scopo aveva questo comitato il comitato pro vittime politiche non un comitato che esisteva anche da prima soltanto che aveva funzioni praticamente di aiutare materialmente i compagni che erano incarcerati dopo il decimo congresso della fai che dal 10 e 12 aprile del 71 una commissione viene formata una commissione per delineare un comportamento unitario all'interno del movimento un comportamento unitario che segnasse una linea appunto di aiuto di propaganda per la liberazione di valpreda e di controinformazione per quanto riguardava tutta la questione pinelli nel 1969 viene costituita la croce nera anarchica riprende il nome dalla black cross di steward christ inglese era formata ed è stata costituita dall'iniziativa di giuseppe pinelli ammedeo bertolo e umberto dei grande successivamente dopo la morte di giuseppe pinelli subentrerà enrico maltini il lavoro della croce nera anarchica è stato un lavoro colossale e infatti è uscito anche il primo libro prima ancora degli altri direi è stata proprio le bombe dei padroni un libro di contro informazione importantissimo all'epoca quindi il comitato pro vittime politiche in cui avevamo accennato era costituito dal rappresentanti di tutte le federazioni quindi fai gaff egia fai federazione italiana igia i gruppi iniziativa anarchica e gaff i gruppi anarchici federati e da dipendeva dalle occasioni da rappresentanti di gruppi autonomi a questo si affiancava appunto rappresentate la croce nera anarchica il comitato nazionale di difesa e cercava continuamente ha influenzato cercava ma anche riuscendo riuscendo proprio a influenzare e a dare una linea abbastanza coerente e unitaria del movimento riguardo alla questione alla campagna appunto di valpreda io ero stato incaricato sono stato incaricato per diverso tempo da parte dei compagni di seguire appunto queste riunioni riunioni che erano fatte ero io e luciano lanza principalmente una volta ricordo è venuto anche roberto ambrosoli le riunioni si tenevano circa ogni 3 4 mesi e aggiornavano continuamente sulla situazione sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista politico cose che dopo venivano naturalmente portate nei giornali e amplificate quindi servivano di riferimento a tutto il movimento le riunioni si tenevano in gran parte nella sede di bologna al cassero e mi ricordo c'era barbani in compagno di bologna che veniva ad aprire la sede i rappresentanti delle altre federazioni mi ricordo per igia spesso tolu qualche volta venuto turoni più turoni spadoni e invece per la fai in gran parte c'erano i coniugi anna pietroni e aldo rossi che dalla dal 71 avevano avuto la direzione di umanità nuova tra l'altro facendo un ottimo lavoro e anche portandola a un cambiamento decisamente positivo loro muoiono dopo qualche anno tra l'altro in una situazione che non è mai stata chiarita la campagna di valpreda particolarmente è stata molto intensa naturalmente come in tutte le parti noi qui avevamo organizzato nel veneto l'organizzazione anarchica triveneta attraverso l'organizzazione anarchica triveneta cui confluivano molti gruppi che l'epoca in gran parte gruppi autonomi autonomi nel senso che non facevano riferimento a federazioni costituite e facevamo dei manifesti eccetera in gran parte i manifesti venivano fatti a qui a marghera nestro macno e con con questa serigrafia e lavorando di notte condizioni penosissime dire il vero però i risultati erano abbastanza buoni ricordo particolarmente una raccolta di quadri per sostenere l'azione di croce nera anarchica fatta a venezia e in cui moltissimi artisti di venezia hanno dato il contributo ricordo ad esempio vedova pagnaco lisse voltolino bosco lodatta e tutti hanno dato o quadri o incisioni etc che dopo abbiamo fatto per per la prima volta un una mostra a treviso il 5 febbraio questi tutti questi quadri dopo sono passati e sono state accumulate ad altre iniziative simili e fate mostri in giro per l'italia devo osservare che gli anarchici sia attraverso il movimento e soprattutto con la spinta del gruppo milanese siamo stati i primi a sollevare tutta la questione tanto da portare la definizione di strada di stato come cosa naturale all'interno della sinistra anche qui a venezia marghera particolarmente marghera era piena direi di gruppi extra parlamentari perché facevano gruppi che venivano da trento da genova perché perché c'era il momento operaio molto molto sviluppato e quindi è stata una calamita per tutti questi gruppi qui anche qui a marghera in qualche forma anche se sicuramente rispetto ad altre formazioni lotta continua avanguardia operaia potere operaio il movimento anarchico era sicuramente minoritario però siamo riusciti attraverso una propaganda incessante capillare a portare anche all'interno del momento generale della sinistra queste istanze della anarchiche e quindi a proporre anche all'interno della sinistra una grossa mobilitazione per per la questione di valpredo nella sinistra non è che c'era tanto entusiasmo entusiasmo per questa cosa per per la campagna per liberare valpredo è andata avanti così fino al 72 nel 72 c'è la liberazione finalmente di valpredo gargarmelli e borghese che erano imprigionati insieme per la questione appunto della dell'attentato di piazza fontana e anche questa data coincide con la nuova campagna che sarà la campagna marini che era incarcerato da sei mesi anche in questo cominciamo una nuova riflessione una nuova campagna per la liberazione marini e così la storia continua perché dico che gli anarchici sono stati i primi a intervenire e a capire l'importanza di questa strategia dello stato che andava a colpire gli anarchici probabilmente come la parte più debole del movimento perché già nel aprile del 69 croce nera nasce legati a questi fatti ci sono gli attentati alla stazione di milano milano e alla fiera campionaria cui gli anarchici erano stati accusati successivamente anche negli attentati ai treni di agosto pinelli viene coinvolto ed è proprio calabresi che cerca di incastrare pinelli su questa storia e lo fa in maniera dura proprio con addirittura abbiamo testimonianze a dei compagni proprio quasi torturati dalla questura di milano quindi attraverso questi dati si capisce che la morte di pinelli non è un fatto isolato ma fa parte di un qualcosa e una strategia che ancora non era chiara ma che evidentemente voleva colpire tutto il movimento non solo anarchico tutto il movimento chiamiamolo rivoluzionario del 68 69 grazie 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 grazie